buongiorno proprio nel bel mezzo dell'ottava di natale nel clima della santa famiglia che dona semplicità intimità e ferialità il vangelo fa un balzo e ci racconta la risurrezione di gesù e il capitolo 20 di giovanni versetti da 2 all'8 per la verità ci racconta l'incontro dei primi testimoni con i segni della risurrezione di gesù e la scoperta del sepolcro vuoto da parte di maria di magdala che corre ad avvisare pietro e giovanni e i due arrivano tra felati e sarà il giovanni il prima ad arrivare ma l'ultimo ad entrare ma soprattutto sarà giovanni che vedendo le lenzuola buttate lì e il sudario piegato e soprattutto il corpo che non c'è più a credere è l'inno della fede oggi perché celebriamo la memoria di san giovanni apostolo ed evangelista questo balzo dell'incontro straordinario con il sepolcro vuoto che per giovanni è sufficiente per credere nel signore risorto e la luce che attraversa in filigrana tutto il mistero del natale noi infatti possiamo celebrare l'incarnazione di gesù come figlio di dio fatto uomo perché crediamo nella sua risurrezione dai morti i due misteri quello del natale e quello della pasqua si legano indissolubilmente e per gli discepoli primo fra tutti giovanni discepolo amato da gesù questo significa professare e vivere secondo la fede è un dio straordinario certamente quello che scopriamo con gli occhi del cuore gli occhi dell'amore della fede della speranza ma va colto in questa straordinarietà una luce per vivere bene l'ordinarietà dell'essere umano giovanni infatti riconosce il sepolcro vuoto come segno del risorto perché ha riconosciuto nel corpo dell'uomo gesù la presenza del figlio di dio e la stessa professione di fede di maria e giuseppe dei pastori dei magi davanti al corpicino di un bimbo appoggiato su una mangiatoia e questa fede che riconosce nella debolezza e nell'assenza che sono due esperienze difficili da accettare per l'uomo in realtà proprio lì riconosce la presenza di un oltre di un qualcosa di più grande di qualcosa che oltrepassa i confini dal tempo e rende presente l'eterno sì è proprio nella nostra povertà nel limite nel desiderio che oltrepassa questo limite perché spinge ad andare sempre oltre che noi possiamo cogliere la traccia indelebile della presenza di dio nella storia il figlio incarnato il figlio risorto rende figli ciascuno di noi nell'accogliere l'abbraccio che fa della nostra debolezza del nostro limite luogo di abitazione dell'immenso dio che ci ama buona giornata